La CNA ha presentato a Roma il rapporto 2019 comune che va ai fisco che trovi, realizzato dall'osservatorio permanente sulla tassazione delle piccole e medie imprese. Sotto la lente di ingrandimento 141 comuni italiani, tra i quali tutti i capoluoghi di provincia. La città di Agrigento, rispetto allo scorso anno, guadagna quasi un punto e mezzo percentuale sul terreno del carico fiscale. È passata infatti dal 63% al 61,6%. E per effetto domino si accorciano i tempi sul fronte del Tax Free Day, cioè il giorno dell'anno nel quale l'imprenditore smette di lavorare per l'ingombrante socio-fiscale e comincia a lavorare per sé e per la propria famiglia. Agrigento si libera della ghigliottina fiscale il 12 agosto, 5 giorni in meno in riferimento al 2018, quando l'atteso spartiacqua era fissato per il 17 agosto. Concretamente tutto questo determina che l'artigiano agrigentino è costretto a faticare 225 giorni per pagare i tributi e 140 giorni per i consumi familiari. La città dei Templi occupa in Sicilia la settima posizione, mentre in ambito nazionale è al 111 posto. Registriamo segnali positivi che ci fanno besperare, affermano i vertici cittadini e provinciali della CNA, ma servono azioni più incisive per alleggerire ulteriormente questa forte pressione fiscale, che rappresenta un freno per la crescita e lo sviluppo della nostra anemia economica. CNA che annuncia la volontà di portare avanti ogni iniziativa utile, avviando subito momenti di confronto e di interlocuzione con le amministrazioni locali, per individuare e dove possibile azionare le leve di alleggerimento dei tributi, che colpiscono pesantemente il nostro tessuto produttivo. Se oggi infatti si sono ottenuti dei piccoli risultati favorevoli, concludono i vertici della CNA, questo è avvenuto grazie anche all'innalzamento al 50% della deducibilità IMU sugli immobili strumentali, introdotta dalla legge di bilancio 2019, fortemente sollecitato dalla Confederazione.